Pensiero del giorno. Sono eternamente connesso al cielo. I miei angeli sono sempre al mio fianco, pronti ad aiutarmi in qualsiasi modo io chieda. Adesso accetto il loro aiuto, sapendo che merito assistenza come chiunque altro. Sono sempre immerso nell'amore divino. Confida nella nostra presenza. Non sei mai solo perché noi angeli ti stiamo sempre accanto, vegliando su di te in ogni momento, quando dormi, guidi, lavori, mangi, fai la spesa, ami, litighi, fai affari, crei, riposi e durante qualsiasi attività puoi avere sempre la nostra assistenza. Siamo felici di ricordarti della nostra presenza in modo che tu possa chiedere il nostro aiuto. Devi solo domandarcelo. Adesso stiamo leggendo queste parole insieme a te. Se vuoi, fermati un momento e sintonizzati con la nostra presenza. Saprai che siamo qui dalla sensazione di calore che provi nel cuore. È l'amore che inviamo sempre verso di te. Sei immerso nell'amore divino, anche quando non ne sei consapevole. Sei come un bambino non ancora nato, che non è conscio della fonte del nutrimento fornito dal cordone umbilicale. Ma la tua connessione al cielo, che ti nutre costantemente, non può mai essere interrotta. Oggi fai del tuo meglio per ricordarti dalla nostra costante presenza al tuo fianco. Più ci chiedi aiuto, più te lo potremo fornire.